ciao ragazzi ben ritrovati sul mio canale eccoci qua a parlare di quelle che sono le voci relative all'attacco dell'anno prossimo della c milan me l'avete chiesto in tanti origi 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 gallo belotti bla 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 quindi faccio questo video un po per riassumervi quello che so quello che ho avuto come conferma e quello che è stato anche tra virgolette spoilerato da me sul mio canale sui miei canali social già tempo fa ma andiamo con ordine dico subito che su origi non so nulla di più se non ha avuto una conferma che è nelle possibili tentazioni del milan valutazioni del milan come parametro zero giocatore vicino a 27 anni che ha avuto poca possibilità di esprimersi e quindi questo comporta un basso minutaggio di conseguenza pochi gol che molti di voi denunciano dicendo noi abbiamo bisogno di qualcuno che ne faccia 20 e quindi c'è proprio una divisione nella tifoseria su questo giocatore tra chi dice ne farebbe 20 in italia è superiore a tutti a chi invece ha grandi dubbi fiducia in paolo maldini massara e compagnia bella quindi capitolo origi si il milan sta valutando questo parametro zero perché è una bella e succulenta occasione andiamo avanti questo video come avete capito però è dedicato al gallo belotti spieghiamo bene com'è la situazione del gallo belotti non piace a molti di voi ad altri invece fa impazzire quindi sempre il solito discorso che poi quelli che sono gli umori o le sensazioni di noi tifosi trovano il tempo che trovano fino adesso la coppia massara maldini con l'aiuto di moncada e compagnia bella stanno facendo un bel lavoro e hanno sbagliato poco veramente pochi giocatori se poi ballo tour è ancora un punto interrogativo forse messia su un punto interrogativo ma nella massa diciamo di tutti quelli che sono le operazioni poche ne hanno sbagliato e quindi grande fiducia il gallo belotti è in talking con il chiacchierata col milan da tanto tanto tempo lui sapete benissimo cuore rosso nero sogno di vestire la maglia rosso nera ma questo non basta e non serve per giocare bene nel milan ci mancherebbe se no io come tifoso rosso nero come tutti voi avremmo dovuto per diritto avere una maglia perché siamo amanti del milan in maniera viscerale a questo non basta è un plus ma non basta cosa vi voglio dire di belotti belotti ha e l'ho detto più volte mi ha confermato anche pedula ultimamente un agreement con il milan l'ho detto anche in una in una room insieme agli amici di twitter con i quali ogni tanto mi dilego a parlare a parlare attraverso gli spaces di twitter e ha raccontato come c'è questo talk che dice il giocatore va a scadenza ovvero si è stancato del doppio gioco di cairo che gli ha promesso più volte di metterlo sul mercato salvo poi chiedere o cifre impossibili lo sapevo bene la storia anche che l'ha avvicinato al milan che vedeva le richieste da 80 milioni e questo non è mai accaduto allora il giocatore ha detto va bene vado a scadenza e cerco di capire se riesco a realizzare quelli che sono i suoi sogni di crescere di andare in una squadra di un blasone superiore a quello del toro con tutto rispetto del toro che ha una storia importante da qui ha avvisato e si sono si sono messi in contatto con il milan il milan è informato della situazione il milan gradisce il giocatore per alcuni aspetti ha altre idee probabilmente come tipologia di attaccante ma a zero un giocatore usato sicuro da mettere in rosa soprattutto qualora ibraimovic dovesse veramente centellinare le sue presenze ha un a un diciamo ingaggio affrontabile perché sui 3 milioni quello che potrebbe essere il il contratto con il milan è nei parametri totalmente nei parametri eliot ecco è un giocatore che non si può non si può non considerare l'accordo l'accordo è più o meno quello di rimanere di annusarsi di stare diciamo in contatto e avvisare entrambi se i piani di entrambi cambiano se belotti dicevano offerta che vuole accettare o vedere se milan la pareggia o chiedere al milan allora se fem come si dice a milano lo facciamo o no e il milan di contro la stessa cosa quindi è un rapporto veramente chiaro trasparente e onesto e per quello che ho scritto riso gallo riferito a gallo belotti non scuoce perché non è stato cancellato come detto da alcuni nella lista di quelli che potrebbero arrivare non è neanche la priorità è una situazione da tenere sotto controllo e valutare proprio step by step con l'avvicinarsi di quelli che sono diciamo i giorni caldi non è ancora prematuro parlare di mercato è vero che si pongono le strategie però visto che c'è questo punto interrogativo grandissimo come una casa sul futuro sull'attacco del futuro milan ecco che ho cercato di farvi questa panoramica che spero sia esplicativa che sia che chiarisca un po quello che è il punto di vista del milan nei confronti di belotti e anche di origi sul quale non sono propriamente come trattativa sul pezzo ma ho saputo che si è nella lista di quelli che potrebbero interessare alla c milan si vedrà però c'è un campionato da giocare c'è un campionato che con questi giocatori dobbiamo vincere perché io come dico sempre chiedendovi di mettermi piace condividere questo video e scriversi è che io ci credo voi ci credete commentate qua sotto e ditemi belotti origi che stanchezza già mercato ciao ragazzi forza milan grazie a tutti